Elemosina, una parola che in greco vuol dire misericordia, un gesto grande di amore e cura per l'altro, troppo spesso svuotato dal suo contenuto reale che invece va compreso e messo in pratica, soprattutto per la gioia interiore che è in grado di suscitare. E' questo il tema su cui si è soffermato Papa Francesco durante l'udienza a giubilare in Piazza San Pietro, affollata dai membri della Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici, che hanno festeggiato il cinquantesimo anniversario di fondazione. Il dovere dell'Elemosina, spiegato il Papa, è antico quanto la Bibbia. In molti brani esso suona quasi come un ritornello in cui si legge la volontà di Dio di soccorrere e aiutare il bisognoso, la vedova, l'orfano, lo straniero. Fondamentale è però l'atteggiamento con cui si dona, quello della generosità e della gioia, anche se aiutare il povero comporta sacrificio perché vuol dire condividere il necessario e non privarsi del superfluo. Offrire l'Elemosina, proseguito Papa Bergoglio, non può infatti essere un peso o una noia da cui liberarci in fretta, ne va fatto con giudizio pensando che quel denaro donato possa essere speso in modo illecito, magari per ubriacarsi, ma soprattutto l'Elemosina non va elargita per essere ammirati e lodati dagli altri. Non dobbiamo identificare quindi l'Elemosina con la semplice moneta offerta in fretta, senza guardare le persone e senza fermarsi a parlare per capire di cosa abbia veramente bisogno. Allo stesso tempo, dobbiamo distinguere tra i poveri e le varie forme di accattonaggio che non rendono un buon servizio ai veri poveri. Insomma, l'Elemosina è un gesto di amore che si rivolge a quanti incontriamo. È un gesto di attenzione sincera a che si avvicina a noi e chiede il nostro aiuto fatto nel segreto dove solo Dio vede e comprende il valore dell'atto compiuto.